Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! Hai visto che fa freddo, scaldiamoci un po'. Chi lo salta un po' il destino è! Chi lo salta un po' il destino è! Chi lo salta un po' il destino è! Perché non ne possiamo più di mantenere centinaia di migliaia di persone a cui offriamo soggiorni d'alberghi a tre stelle con 4 milioni di italiani disoccupati. L'immigrazione clandestina va fermata appunto. 4 milioni di disoccupati fa già più spazio per gli immigrati! 4 milioni di... Chi è venuto in questa piazza è disposto a mettere in gioco se stesso per il bene e il futuro pacifico dei propri figli e dei propri nipoti perché questa è casa nostra e in casa nostra ci vengono solo le persone per bene, tutti gli altri devono tornare a casa loro. Evviva questa splendida piazza, esempio di solidarietà, di generosità, di accoglienza ma di forza! O l'immigrazione la fermano loro oppure ci pensiamo noi! Grazie ragazzi, siete uno spettacolo! Grazie!